Insieme, per non dimenticare, il titolo dell'incontro culturale tenutosi stamattina nella sala conferenze del Comune di Battipaglia è organizzato dal Parlamento della Legalità Internazionale, un'iniziativa organizzata in occasione del 28esimo anniversario della strage di Via D'Amedio in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. Nel corso dell'incontro il Presidente del Parlamento della Legalità Internazionale, Nicolò Mannino, ha presentato il libro Peccatori sì, corrotti mai. Era una morte annunciata, io ho avuto la gioia e quindi essere qui a Battipaglia per me è un'emozione immensa e grande perché io sono arrivato a Battipaglia già nel 94-95-96 con l'allora il giudice Antonino Caponnetto, Presidente onorario del Parlamento della Legalità Internazionale, il quale dopo la strage proprio di Via D'Amedio ebbe a dire è tutto finito. Però dopo l'entusiasmo, l'affetto, l'amore dei giovani, io ho dissi al nonno ma veramente è tutto finito, vogliamo dire a questi ragazzi che nessuna notte sarà così lunga da impedire al giorno di ritornare? E dentro una macchina blindata, mentre andavamo a Camerino, pensammo a un movimento culturale, come disse Paolo nel ricordo di Giovanni, per lottare contro i carnefici di Cosa Loro, contro ogni forma di violenza, dobbiamo dare vita a un movimento che faccia di tutto per sostituire al puzzo del compromesso il fresco profumo di libertà. E allora essere qui a Battipaglia, per me come Presidente onorario del Parlamento della Legalità, vuol dire lanciare un messaggio al positivo, riappropriamoci della città, riappropriamoci della regione, riappropriamoci del paese. Perché, ecco, lo dicevi poco fa tu, sono venuto portando con me un dono, un libro. Peccatori sì, corrotti mai. Peccatori vuol dire fragili, vuol dire provati dal dolore, vuol dire essere persone che provano l'angoscia dell'apparire, persone che cadono, persone che fanno sbagli, ma mai essere corrotti, mai vendere la libertà e la propria dignità. Ed è bello perché questo libro è stato citato durante il periodo, diciamo, quaresimale pasquale proprio da Papa Francesco, durante la Santa Messa a Santa Marta. Urlò proprio il titolo di questo libro, peccatori sì, corrotti mai. E poi è bello perché a pagina 35 Papa Francesco parla proprio di una cultura di pace e insieme a tanti giovani che creano questo movimento meraviglioso di speranza e di amore. E noi abbiamo un grande debito nei confronti di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino, dei ragazzi della Scorta, abbiamo un grande debito nei confronti di Rocco Chinnici, di Rosario Livatino, di padre Puglisi. Vedete, l'elenco è grande, no? Abbiamo un grande debito, lo dobbiamo pagare gioiosamente. È necessario e doveroso che si mantenga la memoria, ma di sola memoria non si vive. La memoria deve servire perché in qualche modo si deve percepire il presente. Nel presente il tema che io poporrò, nella piccola riflessione che farò davanti agli amici, è che la legalità e l'illegalità devono essere ben definite come categorie concettuali, perché l'illegalità è nelle istituzioni oggi. Ha un senso parlare di Borsellino. Se noi nelle istituzioni di oggi, nel governo dei processi e nel rapporto con la società interna ed esterna alle istituzioni, noi ragioniamo di legalità.